Bugatti Chiron Sport è stata presentata a Salone di Ginevra pochi giorni fa. L'evoluzione dell'hypercar non riguarda le prestazioni già da record, ma solamente il comportamento dinamico e l'agilità di guida. Difficile migliorare il mostruoso motore da 8.0 litri V16 quadri turbo, capace di sviluppare la bellezza di 1500 cavalli e 1600 newton metri che fanno volare la Chiron nello 0-100 km orari in 2,5 secondi e nello 0-300 km orari in 13,6 secondi con una velocità massima autolimitata a 420 km orari. Grazie alla cura dimagrante la Chiron Sport ha perso ben 18 kg, un risultato reso possibile grazie ad alcuni mirati interventi che hanno interessato ogni minimo particolare, arrivando ad agire perfino sui tergi cristalli. A tali interventi mirati sul peso sono state affiancate modifiche che hanno riguardato più l'assetto e la dinamica della super sportiva di Morsheim. Le sospensioni sono ora più rigide, il controllo degli ammortizzatori si avvale di una gestione più rapida del 10%, lo sterzo è stato profondamente aggiornato ed è stato introdotto al posteriore un differenziale sportivo che la rendono più rapida nelle risposte allo sterzo e più maneggevole nei lunghi curvoni veloci con piena manovrabilità anche oltre i 200 km orari. Cifre da capogiro per gli eventuali acquirenti, ben 2,65 milioni di euro, circa 3 milioni per avere tutti i pacchetti all'istante. un'amore scola Bertino. Grazie. Grazie a tutti.